Una situazione in grave peggioramento che senza le dovute precauzioni potrebbe presto diventare esplosiva. L'aumento di casi di covid nelle carceri di Lecce e San Severo ha acceso i riflettori sulle strutture penitenziarie pugliesi, dove agli atavici problemi di sovraffollamento e carenza di organico si è aggiunto il pericolo della circolazione del virus tra agenti e detenuti. Per questo motivo i rappresentanti del sindacato OSAP hanno voluto visitare personalmente alcune carceri pugliesi e confrontarsi sul tema con le amministrazioni delle strutture. Hanno fatto tappa anche al penitenziario di Trani, dove gli effetti dell'emergenza epidemica sono stati meno dannosi che altrove. Solo un positivo al covid tra i poliziotti, nessuno tra i detenuti. Ma la situazione in Puglia, dicono dal sindacato, rimane preoccupante. Puglia è la regione più sovraffollata d'Italia, con un'incidenza di forte aumento di detenuti e di sovraffollamento in primis su Taranto, dove si registrano il 130 per cento di sovraffollamento e poi a seguire subito Foggia, Bari, Lecce, eccetera. La situazione è molto preoccupante, anche le vaccinazioni a livello nazionale non sono di un'ampia copertura, almeno per il personale abbiamo a livello nazionale un numero pari a circa 15 mila vaccinati tra operatori penitenziari rispetto ai 40 mila attuali. Quindi si corre il rischio che attraverso questa manifestazione di incidenza molto pericolosa potrebbero verificarsi veramente, e speriamo di no, dei grossissimi focolai che purtroppo determineranno e potrebbero determinare una chiusura delle carceri e delle celle detentive. Queste le richieste del sindacato per evitare che l'emergenza epidemica faccia ulteriori danni nelle carceri pugliesi. Noi come sindacato chiediamo un blocco dell'attività non essenziale delle carceri, di corsi, delle scuole, proprio per dare un'accelerata al piano vaccinale sia per i detenuti che per la polizia penitenziaria e anche tutto quel personale che lavora all'interno delle carceri. Noi chiediamo un'attenzione maggiore anche nel carcere di Trani perché c'è una presenza di personale che è di circa 40-50 unità, senza contare il nuovo padiglione che è stato aperto in netto contrasto con le normative vigenti. Quindi per portare al regime, per portare a sicurezza il carcere di Trani c'è bisogno di 50-60 unità. Poi c'è una situazione anche allarmante per quanto riguarda la sicurezza, perché abbiamo istituti, compreso Trani, che non ha un sistema di antiscavalcamento, un sistema di antintrusione, noi stiamo chiedendo anche un sistema di drone per il controllo del territorio, perché Trani come Foggia e come Taranto sono istituti nel contesto criminale abbastanza importanti.